E così ChatGPT è tornata disponibile in Italia e già vedo la gente che urla ha solo un fuoco di paglia, hanno messo solo due cosine a destra e manca. In realtà, dati alla mano e oggi li analizziamo, OpenAI ha ceduto su tutta la linea delle richieste del garante, nessuna esclusa, salvo alcune per questione di tempo, e quello che è successo, le modifiche che sono state fatte alle condizioni d'uso e a quello che potete fare, da cancellare i vostri dati fino a impedire che vengono usati per il training, è un risultato incredibile, obiettivamente. Molti lo stanno criticando, secondo me non tanto, voglio pensare non per il fatto che non abbiano un pollice opponibile e non sappiano leggere, ma perché magari non hanno un attimino guardato meglio che cosa è accaduto. Ed è esattamente quello che facciamo oggi. Oggi vediamo cosa, come e perché è accaduto, analizzando tutti e nove i punti che erano condizione per la riapertura e che sono stati puntualmente, uno dopo l'altro, seguiti. Tutti, nessuno escluso. Io sono Matteo Flora e questa è una nuova puntata di Ciao Internet. Ciao Internet. Allora, partiamo insieme. Non so se vi ricordate, avevo fatto un video sulle nove condizioni che il garante aveva imposto per sospendere il trattamento di limitazione provvisoria che aveva adottato il 30 marzo del 2023. Avevo spiegato la razio di ciascuna di queste, lo trovate qui sopra come link qualora ve lo foste perso. Oggi facciamo così, iniziamo a rivedere tutti e nove i punti che erano stati messi come obbligatori per lo sbloc e vediamo se effettivamente sono stati adottati o no. Vi ricordo, alcuni di questi sono davvero cose molto formali, altre cambiano in maniera radicale come noi addirittura pensiamo il servizio di OpenAI e come loro lo devono erogare. Partiamo una a una. La prima era legata alla pubblicazione sul proprio sito internet dell'informativa che spieghi agli interessati come sono stati raccolti, come vengono usati per il trattamento, il funzionamento dei servizi e i loro diritti come in quanto ovviamente interessati. E qui il lavoro è stato fatto non solo, ma è stato molto aumentato. Non solo c'è chiarezza di informazioni su cosa vengono, che dati vengono recuperati e in che modo. Non solo ci sono anche tutte le personal information che ricevono per utilizzare il servizio, divise tra quelle proprio tecniche, cookie, analytics, eccetera, e tutti gli utilizzi. Poi ci sono dei paragrafi che spiegano come vengono usate le informazioni, se sono aggregate, identificabili o non identificabili. Ci sono tutta una serie di parti sulle disclosure, ci sono tutti i diritti in cui questa volta ci sono tutti i diritti, non solo alcuni quelli più comodi, tra cui quello di togliere il consenso, il fatto di poter obiettare all'utilizzo dei dati per il training, il fatto di poterli correggere o cancellare, e in più tutta una serie di parti relative, questo è un po' più legale, alle basi legali di come processano i dati, e qua ne parliamo poi nella parte dedicata. Fatto è che è cambiato tanto tutto quello che era stato chiesto. Niente, nessuna è la parte esclusa. Forse una delle parti più importanti invece è quella del oblio, e infatti in questo caso la seconda richiesta era mettere a disposizione uno strumento attraverso il quale possano esercitare il diritto di opposizione rispetto ai trattamenti. Ah no, pardon, questo non è ancora l'oblio. Questo è l'opposizione ai trattamenti, cioè io devo poter usare il servizio non volendo che i miei dati vengano utilizzati poi per addestrare l'intelligenza artificiale. E anche qui effettivamente è esattamente quello che è successo negli scorsi giorni, proprio in previsione di questa data, di questa scadenza, OpenAI ha dato a disposizione agli utenti la possibilità sia per quelli loggati sia per quelli non loggati, lo vediamo dopo in un form, di evitare che i propri dati vengano utilizzati per fare training delle conversazioni. Addirittura, vediamo se riesco a metterlo, eccolo qui, vediamo se riesco a farlo vedere, eccolo qui, con la possibilità per gli utenti registrati, per gli altri c'è un form, di poter disabilitare la possibilità che i miei dati, dai settings degli utenti anche paganti, che i miei dati vengono utilizzati per il training e per gestire la history. Quindi anche in questo caso il tutto perfettamente secondo le richieste. Numero tre, mettere a disposizione uno strumento attraverso il quale chiedere e ottenere la correzione di eventuali dati personali che riguardano dati trattati in maniera inesatta nella generazione di contenuti o, qualora questo risulti impossibile, la cancellazione. Ed era la parte dove tutti si erano scagliati dicendo non lo farà mai, non ci sarà mai questa opzione, non la daranno mai, che invece c'è? E come se c'è? Se ritorniamo nella parte arrivo un po' più indietro ok in questo caso abbiamo siamo nel paragrafo i tuoi diritti una parte che dice una nota sulla accuratezza i servizi come ChatGBT generano risposte che possono essere sbagliate per questa ragione non dovresti fidarti solo di quello che esce e adesso appare tutta una parte interessante. Se noti che ChatGBT contiene delle inaccuratezze fattuali sulle tue informazioni personali e vorresti che noi correggessimo queste problematiche beh, puoi mandare una richiesta di correzione a e c'è un indirizzo apposta per le richieste di correzioni. Ti dice che viste la complessità texinica di come funzionano i modelli potrebbero non essere in grado di correggere ma in questo caso c'è un form apposito per poter richiedere la cancellazione dei tuoi dati. Non solo già che ci siamo qua per gli utenti per tornare un attimo già che siamo sulla pagina per tornare un attimo a quello di prima che dicevamo la cancellazione ma cosa succede per la cancellazione se io non sono già se io non sono più registrato e voglio cancellare i miei dati c'è una apposita pagina in cui è un apposimo form in cui chiedere l'opt out di tutte le conversazioni anche se non sono più un utente o se in questo momento non ho un abbonamento attivo quindi direi che anche per il punto 3 siamo esattamente a quello che veniva richiesto. Punto 4 questo è un po' una ok un po' una formalità devo dire la verità ma l'avevo detto anche se lo vedete lo vedete anche nel video inserire un link all'informativa nella registrazione se mi registravo nella piattaforma da nessuna parte mi veniva proposta la privacy policy e mi veniva chiesto di accettarla e in questo momento provate a registrarvi questo passaggio c'è ok è solo un passaggio formale ma 4 su 4 pienamente riprese 5 questo è enorme è titanico modificare la base giuridica e il trattamento dei dati personali degli utenti ai fini dell'addestramento degli algoritmi eliminando ogni riferimento al contratto assumendo come base giuridica o il consenso o il legittimo interesse e qui è importante perché è importante perché la base giuridica è il motivo la motivazione con cui OpenAI utilizza i miei dati se è come base di come base del tutto il contratto l'esecuzione del contratto non posso in nessun modo esimermi dal fatto di avere di autorizzare l'addestramento in altre parole non posso usare il servizio senza autorizzare l'utilizzo di quei dati perché perché il contratto il contratto di esecuzione cioè il contratto è quell'accordo con cui OpenAI mi dà il diritto di utilizzare la sua piattaforma mi vende la sua piattaforma se sono uniti questa cosa sono imprescindibili e infatti non solo sono stati divisi ma proprio i trattamenti le basi giuridiche sono state pesantemente modificate in questo modo se vado nella parte di utenti internazionali trovo che tutta una serie di cose il legittimo interesse copre tutta una serie di parti il contratto ne copre altre e il consenso ne copre ancora altre nella base del legittimo interesse non solo c'è che l'utilizzo per fare il training dei loro modelli è parte di un interesse legittimo ma c'è ancora una volta il link alle istruzioni per togliere i tuoi dati dal training tra parentesi non togliere i training da chat GPT in questo caso ma da tutto il mondo di OpenAI comprese ovviamente comprese le API quindi anche in questo caso 5 su 5 di domande 5 su 5 completamente rispottate nel modo in cui il garante aveva segnalato mettiamo mettiamo la 6 mettere a disposizione uno strumento attraverso esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati acquisiti in sede di utilizzo del servizio per l'addestramento degli aluri l'abbiamo visto in mezzo a quelli di oblio di correzione c'è l'opposizione al trattamento ce ne sono due di form di opposizione uno dentro se sono loggato uno fuori se non sono loggato per poterlo rimuovere quindi 6 su 6 ci siamo 7 in sede di eventuale riattivazione del servizio inserire la richiesta a tutti gli utenti che si collegano all'Italia di un age gate che escluda sulla base dell'età dichiarata gli utenti minorenni è la prima parte delle due ci saranno due richieste di age verification la prima la seconda più seria la vediamo la prima è meno seria ma almeno è quello che viene chiamato un age gate che chiede proprio il fatto che si autodichiari l'età e che si dica che non bisogna entrare se si è minori si copre poco ovviamente ma c'è la provision dopo questa è stata assolutamente fatta se rientrate addirittura vi chiede se non ve l'aveva chiesto prima se siete maggiorenni o meno la parte successiva arriverà a settembre perché entro settembre OpenAI non basta questa parte anche il garante sa che non è sufficiente deve predisporre una modalità per rispondere in maniera più piena a quello che è il problema con delle verifiche un po' più approfondite a fino a settembre per poterlo fare vedremo a settembre che cosa succede quindi 7 su 7 ottava possiamo lasciarle in sé nona OpenAI ha già dichiarato che sta partendo una campagna di informazione sui mezzi di comunicazione per informare le persone della venuta raccolta e di come rimuoverli ma anche qui la dichiarazione è che ci sia nel caso vedremo torniamo un secondo al punto di base a quelli che ti dicevano ecco sono solo cose formali potete vedere in questo momento che non sono tanto formali il fatto di aver dovuto modificare l'intera infrastruttura per fare in modo che le persone possano decidere che i tuoi dati non vengano utilizzati per il training dei modelli il fatto di poter chiedere l'autorizzazione cosa che prima la correzione cosa che prima nemmeno esisteva ed era esclusa a tutti i posti e il fatto di poter chiedere la cancellazione ed ottenerla cosa che prima non esisteva da nessuna parte non sono cose da poco per arrivare a quello c'è una parte legale importante sì potrebbe sembrarvi poco ma tecnicamente prevede tutta una serie di problematiche non indifferenti per OpenAI che è la modifica della modalità e dei fini del trattamento cioè perdono la base legale e la base giuridica del trattamento che in questo caso è stato cambiata gli altri sono un po' cosmetici quasi tutti ma direi che forse avete abbastanza dati per capire quanto importante quanto incredibile è stato l'impatto che questa cosa ha avuto non sono ancora d'accordo sul fatto e questo l'avevo detto prima che servisse un procedimento di urgenza c'è da dire che il tutto ha escalato a livelli estremamente elevati tanto che c'è adesso un tavolo per capire che cosa succede cosa manca da qui manca il training iniziale lo dico tranquillamente che non era citato qua dentro questo vi ho fatto vedere quali erano le cose però manca il modello iniziale quel modello iniziale che è la base di tutto perché manca secondo me per due motivi principali il primo è che è una cosa che va concertata a livello europeo quindi il tavolo andrà a muoversi il secondo è l'avvicinarsi di una serie di revisioni di quello che viene chiamato AI Act quindi il AI Act la normativa europea sull'intelligenza artificiale che prevede una parte che si sta sempre più delineando molto esplicita proprio per quanto riguarda i large language model come GPT e non solo ormai come tanti altri e quindi spero almeno di vedere degli sviluppi su quella parte che sto seguendo abbastanza attivamente che sarebbe la cosa ideale come dicevo già in più video ci troviamo di fronte a un qualcosa di particolare perché non è esattamente un dato personale ma dall'altra parte non possiamo dire che non è un dato personale perché nel momento in cui io richiedo qualcosa e mi risponde con proprietà lì dentro i miei dati ci sono e mantengono uno stato di permanenza quindi non è tutto finito tutt'altro anzi forse la battaglia quella un po' più fatta di schermagli legali quella fatta di una concertazione più europea e non solo italiana inizia adesso certo è che da qualche ora a questa parte gli utenti non solo italiani perché questo si applica a tutta Europa hanno un bel po' di diritti in più e se qualcuno ancora vi dice ah non è stato fatto niente potete dargli tranquillamente dell'ignorante e rimandarlo a questo video tutto qui grazie mille di avermi ancora ascoltato il video di sabato è solo per questione del fatto che è uscito adesso potete seguirmi per altri video che parlano di questo e di molto altro il mondo della comunicazione e del digitale in genere e come sempre anche questa volta grazie mille per avermi ascoltato buon weekend ed estate parati